Io sarò felicissimo di conoscere Papa Cervi a cui va tutta la mia ammirazione. Papa Cervi purtroppo è morto. E quindi se lei manterrà l'invito, io sono felicissimo di venire con lei a rendere omaggio a questa nobilissima figura che ha tanto sofferto. Però io ho nei miei ricordi, dei ricordi terribili, io dai salesiani a Milano mi vedo...